Una scuola ancora, con un interrogativo, che è stata costruita 70-80 anni fa, non ha più oggi una funzione di scuola, quindi vogliamo mettere in mano qualcuno che ci capisce molto e poi cercare di dare degli input, delle idee ulteriori a questa città. Possiamo andare alla selezione. Non ci vogliamo trovare alla fine del percorso.